un gruppo di ragazze diciamo ragazze madre e figlie che si danno da fare per solo paga l'unica cosa che stanno facendo loro è il fatto del commercio hanno organizzato tutti i commercianti con con la presidente che collaborata da diverse ragazze principalmente ci stanno che che vedo sempre insieme pasquale non diciamo nomi in particolare cioè che cosa viene valorizzato con questa manifestazione che valorizza questa manifestazione innanzitutto per la festa di natale il giorno di dicembre che si presenta per le feste stanno facendo un sacco di cose c'è un esatto tu che hai una memoria storica di solo paga è stato rifatto tutto e quindi è una cosa meravigliosa tu che hai una memoria storica di solo paga oltre al meg che un centro di esposizione queste cantine e questo giardino il meg che serve serve innanzitutto hanno fatto pure dove c'è sono tutti i libri hanno fatto il legato alla biblioteca ma che serve principalmente a cosa dovrebbe essere le feste che si fanno le riunioni i giovani a promuovere che cosa in particolare a promuovere tante cose che possono fare tanto è vero che ci si dimostra questa sera che stanno facendo un sacco di cose riunioni convegni grazie quindi tante cose ma nessuno in particolare perché in particolare questa questa stasera che poi continuerà domani sera con una festa chiuderà con una festa di musica napoletana ho sentito che si farà e come si chiama è vero non lo so mi sono prenotato pure ho pagato pure un contributo 10 euro due biglietti mi hanno dato per sentire questo il contributo si il concerto per cui si chiuderà questo concerto dei cavalieri cavalieri di Napoli di Napoli di Roseto di Roseto esatto paricapiggiato da Parmellino Raffaele quanto si paga il biglietto? 5 euro e dove si farà? sulla sopra sopra si inquadriamo il piano superiore grazie e quindi chiuderà questo fatto qua grazie quindi è una cosa che fanno bene per solo pagare queste ragazze che si sono messe in moto e riescono di tutto quello che fanno bene thank you salute ok grazie